Il 19 luglio del 1747, ai 2400 metri del Colle dell'Assietta, sul crinale che unisce la Valle di Susa alla Valle Chisone, l'esercito Sabaudo vinceva contro le truppe franco-spagnole una fondamentale battaglia della guerra di successione austriaca. 274 anni dopo, quel fatto d'armi è ancora commemorato e ricordato, perché da lì inizia la storia del Piemonte moderno e il 19 luglio, da 53 anni, è il giorno in cui il Piemonte celebra la sua festa. La manifestazione di quest'anno, organizzata come di consuetudine dalla Suggestion Festa dal Piemonte al Colle dell'Assietta, a causa dell'emergenza sanitaria, si è svolta ancora senza pubblico e con un cerimoniale ridotto, che nulla ha tolto all'omaggio a tutti quei soldati piemontesi, francesi e spagnoli che hanno combattuto e perso la vita per la loro patria. Una manifestazione, una rivocazione a forma ridotta per l'emergenza Covid anche quest'anno, sperando col Consiglio regionale di dare un impronto ulteriore e aumentare sempre la possibilità che i cittadini piemontesi, italiani, europei, conoscano oltre il nostro territorio anche la nostra storia, perché abbiamo sentito che senza storia non c'è futuro. Siamo addirittura ad arrivo per l'istituzionalizzazione della festa del Piemonte, le prossime settimane, proprio dal 19 luglio, partirà la consegna del nostro vessillo, del Grappò piemontese a tutti i sindaci del territorio piemontese. La registrazione della commemorazione verrà trasmessa indifferita sui canali social dell'associazione un festa dal Piemonte al Codlasietta il 18 e il 19 luglio prossimi.